Un vecchio canto himalaiano riportato da Fosco Marraini Ho pietà di coloro che l'amore di sé lega alla patria La patria è soltanto un campo di tende in un deserto di sassi Uno dei primi esercizi per promuovere un pensiero di pace è entrare in un campo profughi Inutile specificare il motivo della sua esistenza I campi profughi nascono a causa della guerra e delle sue conseguenze Se non è possibile entrare di persona, cosa prevedibile, visitate i campi su internet Il più grande è Okses Bazar in Bangladesh Che accoglie un milione di persone in fuga dalle persecuzioni birmane Poi c'è Dada Hab in Kenya Che ospita 400.000 rifugiati dalla Somalia Poi i campi palestinesi creati dal 1948 in avanti Poi i campi in Congo Sei milioni di persone in fuga dalla guerra nata per il controllo delle miniere Ma non basta vedere il monitor del PC Si consiglia di scaricare un'immagine e stamparla E metterla poi da qualche parte, in casa, in ufficio Tra quadri e foto di famiglia Così il mondo vero è più vicino E i neuroni possono mettere in relazione alla propria condizione umana Con quella dei dimenticati Si può fare Si deve fare Facciamolo A domani A domani A domani